Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 sono. tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. 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 . . . . . . ma non ti sali prendete questa palla che la facciamo? ma mi attenti ragazzi sale assieme ragazzi forza vai ecco un po' di grigia dai Stefano di nuovo vai Stefano lavora stiamo ancora dai matti dai che grazie vieni giù ma non fai giù ma non fai giù ma non fai no è giù ma non fai è giù ma non fai è giù ma non fai vieni subito guarda ma fai già una account ma quanto sta male super ma che cosa stiamo e dai ci sta e dai ci sta e dai Portando! Spigi! Allora di chi è questa cazzo? Dai, albicchia! Oh! Dalì! Cazzo! Cazzo stavolta! Cazzo! Oh! Oh! Cazzo che cazzo! Ma dai! Ma dai! Ma dai, ma dai tutta la luce! Siete lì, ma dai! Ma dai! Grazie a tutti. 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 Forza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Dai salato di nuovo. Lo riportavi. Sai forte. Vai ragazzi. Guarda l'ultima giacca. Forza forte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!